Ehi la ciurma, io sono Alziatess e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventure Sì, anche nello scorso episodio la cam si è frizzata e io non so per quale ragione Anzi, un'idea ce l'ho è quella del fatto che la risoluzione e il bitrate forse erano troppo elevati per la potenza del mio computer Quindi forse a un certo punto non ce la faceva più e al posto che la gare si bloccava là e caput Quello che non capisco bene è perché lo faccia con Spore e non l'abbia fatto con Mindtest o con Magic Boh, vedremo nei video successivi, mi auguro che in questo video non frizzi e quindi mi possiate vedere dall'inizio alla fine Come è capitato negli scorsi video, porca miseria la gente che passa in macchina a tutto rumore Abbiamo finito? Vabbè, comunque Continuiamo, ritorniamo nella nostra avventura su Spore Galactic Adventures Potrei andare a vedere su Barodocrea che cosa sta capitando Anche perché non abbiamo mai visto un collasso di un sistema in tempo reale C'è vento Ok, la biosfera sta implodendo Stanno morendo tutti La situazione è gravissima Ah, ma è semplicemente sceso di... Beh, semplicemente in realtà sta scendendo rapidamente di... Raggio refrigerante, raggio refrigerante, raggio refrigerante, raggio refrigerante Eh sì, perché ho perso la... la roba Ho perso la roba, non ha più piante, non ha più... non ha più un Kaiser, sto pezzetto Allora Allora, allora, allora Con calma Allora, la pianta grande serve Ok Ok, te ne riprendo una Quella non serve Poi devo mettere degli animali Erbivolo Eh, scusa ma ti riprendo perché... Ehi Ehi È morto Ma cosa? Ma no, abbiamo perso un mozzo Adesso dove vado a recuperare? Beh, in realtà sono tutti i sistemi che ho colonizzato, ma... Ehm... Un altro albivolo ce l'abbiamo, sì, dovremmo Ma no, adesso ad utilizzarlo a T2 Ehm... Un... Carnivoro... Un... 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 vorrei vedere il nostro mojos kings se non sbaglio aveva subito una si un disastro ecologico infatti precipita tutti due e visto che il nostro caro amico ha seguito la serie per molto tempo non c'è ancora ma mi auguro di sì io vorrei riportargli il pianeta a posto visto che l'ho un attimo trascurato in passato l'unica cosa è che temo di aver bisogno del mozzo e di non avercelo vabbè collasso raffredda un po speriamo che adesso regga un attimo per la pianta pianta piccola che mancava ok poi pianta media e pianta grande poi avremmo bisogno di due erbivori ma mi sa che ne abbiamo soltanto uno o forse neanche quello no c'è il cicci che si può mettere ma abbiamo un onnivoro e no c'è un erbivore che possiamo depositare ok un onnivoro ottimo ora andrei a recuperare qualche no mettiamo un'altra colonia scusate ce l'abbiamo un'altra colonna no non ne abbiamo andiamo a comprare una colonia allora da mettere sul sistema con mozus kings andiamo a prendere la tartalantella magari passano anche i camion nel frattempo gg allora ricaricaci gratis vuoi qualche speziale verde 22.000 no è scarso però questa 17.000 ci sta ne ho pochissima però torno tra un attimo vendimi due colonie ci sta e poi quasi quasi dov'è che era nefi qua se non sbaglio avevamo messo di della gente no non avevamo messo della gente avevamo messo solo un deposito di spezia perché avevamo sfruttato il santuario della natura selvaggia per depositare della spezia è una specie di bug per cui se depositi della spezia in un altro sistema sparisce ma solo depositi in un sistema in cui c'è santuario della natura e pinko pallo allora non succede niente ma a parte che potremmo andare anche su armageddon per andare a prelevare un erbivore che ci manca allora armageddon così prendiamo anche un po' di blu ah no siamo pieni andiamo un attimo da armageddon qua a vedere se erbivore cosa ha dei mozzo ma vediamo se c'è qualcun altro un buga ha due volte mozzo come erbivore non lo so buga andiamo a cercare buga ok ce n'è uno sono qua sotto vediamo se ne riesco ecco l'altro non ho preso qualcuno almeno no gazpiant piccola non mi serve quello che volevo era avere dei buga uno soltanto e ne ho trovato ma porca miseria ne ho uccisi quattro ok cinque no perfetto così mi basta grazie arma siamo passati dal tuo pianeta per fare scorta di animali ok ok allora quindi andiamo lui non ne aveva più bisogno vero ma aveva bisogno della colonia mozzos kings quindi andiamo a piezzare una beliczima coloniczima qui qui ok ok poi avremo bisogno anche di un pacco di soldi per a parte che ne abbiamo 28 milioni quindi ben già fatto più soldi di quanto non ne avessimo arrivando qua allora me la giro come mi torna utile così allora abbia io parto sempre dall'intrattenimento che è 1 e 1 2 poi ho fabbrica 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 ogni tanto non me lo ricordo in memoria allora guardo un foglio che è qui che voi non potete vedere perché è fuori dal range della webcam ma è praticamente appena accanto al monitor e e quindi mi aiuta quando mi per caso mi dimentico come la la conformazione tipica che utilizzo per le città e poi tra l'altro nello stesso foglietto che ho appeso là ormai da penso più di un anno c'è anche l'indice dei prezzi della spezia infatti se per caso mi vedete guardare in quella direzione è per quel motivo perché ho quel foglio che mi indica queste due cose e quindi ogni tanto vado a controllare ciao bellissimi allora volete comprare qualcosa no c'era la capitale che voleva tarantella però che voleva prendere un po' di spezia gialla ora i nostri depositi di spezia gialla se non ricordo male erano uno qua vicino chi sono questi ottarzina c'è della gente che si è sviluppata vicino a noi ok questo qua se non sbaglio era un 30 ah no questo era un 15 allora era giù in fondo che ne avevamo un 30 di spezia gialla non qua ma tipo questo se non di più perché questa era la capitale di un di un impero no no non è dov'era che non sia qua sotto tibio ma no mi sembrava che fosse diverse infatti solo 5 chi mi sta saccheggiando dove no non impero mozzo ho capito ufo stili stanno saccheggiando ma corinello è dall'altra parte del mondo non posso andare a corinello adesso piccato dove era la mia ah questo era questo era si 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 5 5 ah 80 si 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 infatti non abbiamo preso neanche non abbiamo preso neanche tutta andiamo laggiù e andiamo qua a parte che posso anche disabilitarlo a fare delle ultime tappe del viaggio ecco torno indietro perché sennò poi non mi vedete cosa è successo si mossa la luce qua che se si muove sono guai perché poi diventa tutto oscuro all'improvviso no perché sono sceso a terra vabbè riparami in cambio ti vendo ciarpame a grande prezzo ok e intanto che con questa chiudila perché tanto non posso farlo e dall'altra parte del mondo a me frega più niente di corinello cioè mi spiace ma ormai non è che posso badare a tutti questi sistemi cioè abbiate la pazienza di capire no le necessità di un personaggio ormai molto affermato a livello spaziale e abbiamo 30 milioni ottima cosa volevo vedere se nella nostra collezione abbiamo qualche medaglia che potrebbe essere interessante completare guardia del corpo difendi 35 amici ok bisognerebbe avere degli amici non abbiamo alleati al momento neurochirurgo porta una creatura alla fase tribù per ottenere ok eliminazione ok ma non ci piacciono le missioni eliminazione trova 20 manufatti quella potrebbe essere un'idea ambientalista perviene i 25 disastri ecologici è una medaglia del Kaiser stringi 10 alleanze per arrivare al diplomatico 4 se no abbiamo esploratore esplora 250 sistemi solari 20 missioni spedizione 5 strumenti di scultura colorazione ah buffone se per caso bari chi usa i trucchi gli appare la medaglia buffone factotum acquista 100 strumenti 40 scoperte cosmiche che solo le conformazioni particolari dovrebbero cambia personalità questo non mi ricordo cosa sia 40 rotte commerciali che non dovrebbe essere difficile 50 imperi ok questa non dovrebbe essere difficile anche da fare più che altro lunga 6 guerre abbiamo fatto pochissime guerre in realtà 4 pianeti storia questo sarebbe molto interessante 4 pianeti storia mi piace potrebbe essere un bellissimo obiettivo in realtà credo che dovremmo andare a cercare su internet per capire come risolverla però può essere una soluzione cioè può essere una bella idea per riempire gli ultimi episodi e abbiamo 84 medaglie su 139 tra l'altro che non sono tantissime ma perché ce ne sono alcune che ci mancano tantissimo cambia personalità no cambia personalità vuol dire quando noi siamo religiosi sono sbagli di stampo che sono in pratica e dettato dalle scelte che abbiamo fatto in passato dai fatti siamo diventati sciamani perché eravamo religiosi in fase 3v siamo stati erbivori in partenza e quindi ha raggiunto l'illuminismo lol ok Enterprise è stato distrutto abbiamo distrutto delle navi abbiamo scoperto l'impero Vub 151 milioni di anni e quindi quando cambi personalità da sciamano passi a essere qualcos'altro tipo militari eccetera eccetera ma non mi ricordo come funzionava quel discorso la e quindi non ne ho la più pallida idea mentre le altre erano un pochettino più fattibili questa deve essere molto carina da scoprire e magari andrò a informarmi a informarmi voi scrivetemi nei commenti tempestivamente prima di registri il prossimo episodio 40 rotte commerciali si possono fare ecco andiamo a risolvere la questione delle rotte commerciali andiamo a comprare i sistemi che abbiamo qua da acquistare che sono questo qua c'è un T2 e quindi io ti darei 3 milioni ottimo fatto quindi andiamo a stabilire una rotta commerciale con questi visto che sono ancora nostri amici nonostante siano eoni che siamo a combattere da altre parti Diplomazia un rotta commerciale con te ottimo e tra l'altro il nostro ottimo bello così rientriamo anche un po' in affari con loro qua compriamo una di queste è un T0 l'impero minor quindi la possiamo acquistare a 500.000 ottimo quindi abbiamo altre zone di nostro dominio tra l'altro il verde ah il verde sono i nostri alleati ecco perché non ci insegnava il verde dove siamo noi andiamo a comprare anche quel questo faremo gli chiederei una rotta commerciale visto che è vicino a noi ok che è un sistema che non ci serve però è anche T3 eeeh ciao allora una rotta commerciale ottimo tra l'altro puoi prestarmi una delle tue navi ottimo ok siamo già a 2 su 5 andiamo a comprare questo poi dovremmo no svendere vendere un po' di space ecco tra l'altro prima di comprarlo vediamo se vogliamo comprare qualcosa 11.000 non è tantissimo ma 58.000 è il massimo e te la vendo tutta si le altre vanno abbastanza scarse però quella va benissimo vendi per caso delle colonie poco che l'unica cosa forse ti serve ancora no cos'è questo? crateri vabbè eeeh acquista il sistema questo cos'è? un T2 e basta si quindi direi che con 3 milioni ce la caviamo ok buono la abbiamo un un commercio in atto andrei questi sono i nostri amici andrei a stabilire una rotta commerciale con loro dell'impero a me ciao allora diplomazia puoi prestare una nave? ottimo una rotta commerciale? benissimo poi vediamo altri sistemi da acquistare c'è questo che andremo prontamente ad acquistare è un T2 quindi altri 3 milioni che se ne vanno vediamo prima se vogliono comprare qualcosa la rosa no no non vogliono comprare niente quindi arrivederci ti compriamo il sistema a 3 milioni ottimo 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 e stabilire una rotta commerciale con chi? a sto punto qualcuno in su e andiamo a stabilire una rotta commerciale se no estinguiamo i verdi qua allora copriamo un po' di roba dai minor va un po' di roba dai minor riduciamoli un po' nella loro lunghezza guardate dove si stanno espandendo qua i minor allora facciamo una rotta commerciale qua che tra l'altro hanno un un viola? allora diplomazia una rotta commerciale con te ottimo questo è un sistema che mi piace e se ci avanza una rotta commerciale la farei con questo qua per evitare che diventino troppo grossi dai saluti diplomazia una rotta commerciale con te ottimo volete qualcosa? 22.000 è un po' pochino 4.000 è un po' pochino e vediamo se mi prende anche questa come rotta commerciale sarebbe l'ample se no magari riusciamo a vendere qualcosa no vendere? no ma due colonie quasi quasi me le compro perchè quelle servono sempre lascio stare eeeh grazie diplomazia rotta commerciale ok no niente abbiamo troppe rotte commerciali andiamo a recuperare un po' di spezie in giro magari andare a vendere comprare verde qua c'è verde ma dove era quella potente no quella potente viola ce l'avevamo qui su questa qui su quella viola l'abbiamo venduta tutta ok no come già mi ha lampeggiato la gialla mi ha dato gialla mi ha dato viola qua c'è il verde ma non era il verde potente allora qua giù in fondo avevamo il potente rosso qua qua ok così di rosso siamo di nuovo anche quasi pieni poi avevamo dei chili oppo forse era per la blu oltre ad armageddon si siamo pieni di blu ottimo beh ottimo fino a un certo punto sarebbe meglio averne di meno ehm qua c'era mirillo per la verde ok e poi più in su c'era forse bataclown su in cima qua che aveva verde si ok siamo pieni di verde ci servirebbe rosa rossa che non è un problema e gialla la gialla dovrebbe essere anche ripieno di nuovo allora andiamo a prendere la rossa ma ne ha fatta così poco su tarantella di rossa eh già che ci siamo facciamoci riparare la nave scusa un attimo allora allora volete comprare qualcosa o no il blu non ci serve andiamo a vedere se la sotto intanto ha fatto di nuovo della gialla speriamo 53 ottimo e con questi due dovremmo farcelo vero? no per uno non ce lo facciamo ma adesso andiamo in là e ok ora ci manca della rossa e della rosa la rosa non mi ricordo era qua su forse muriprem avevamo della viola ma di viola dovremmo essere no non abbiamo tanta di viola 60 ok ce ne mancano ancora 39 c'era riegel se non sbaglio che era rosa no berro non c'era riegel da questa parte ah non era il sistema che avevo detto che era tipo riegel ma non l'avevo poi rinominato riegel effettivamente ma di rosa doveva ben essercene un altro da qualche parte adesso non ricordo più dove ma so che c'era forse questo kira non mi dice niente il nome però produce rosa 15 che è già qualcosa e il rosa 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 rom rosis boh ah su mojo's kings stupido mojo's kings era una potente rosa ottimo e siamo a 99 anche di quella vediamo se per caso qui sotto hanno prodotto altra rossa io mi auguro di sì ok siamo pieni di rossa ottimo quindi direi che per questo episodio possa essere tutto anche perché è passato tantissimo tempo io spero che la camion si sia frizzata mi auguro davvero tantissimo noi ci vediamo nel prossimo episodio vi invito a lasciare un mi piace scrivermi se per caso non l'avete già fatto e lasciare un commento in cui suggerirmi che cosa fare per i prossimi episodi di spore prossimi ultimi episodi di spore perché non lo so se continuare ancora per una settimana o per due vedremo in base anche a quanto mi serve di tempo per preparare la serie successiva noi ci vediamo nel prossimo episodio come ho detto prima ciao a tutti e buona giornata ciao a tutti